Stop ai giornali gratis su Telegram, la pirateria durante il coronavirus. Buongiorno e benvenuto al caffettino, benvenuta al caffettino, questo spazio di qualche minuto in cui parliamo della notizia del giorno e oggi sicuramente la notizia è quella legata al mondo di Telegram Stop, ad alcuni canali su Telegram che davano a disposizione in maniera illegale, pirata, giornali, riviste, addirittura anche qualche serie TV su Telegram. Grazie a un procedimento della Procura di Bari ha bloccato fondamentalmente alcuni di questi canali, ma la domanda che mi faccio in questo periodo di coronavirus è come sta la pirateria? Perché questo è una delle prime domande, bene il quotidiano inglese Independent in realtà riporta che il traffico verso i siti di streaming e download illegali è aumentato quasi del 60% tra febbraio e marzo, che è più o meno quello che vediamo, il boom di iscrizione e nuovi abbonamenti non pirata ma in chiaro di Netflix e Disney Plus dell'ultimo trimestre, ovvero la risposta è che appunto la pirateria non cambia, anzi aumenta in questo periodo e segue il trend di utilizzo dei contenuti. Ma si può bloccare Telegram? Perché qui si parla proprio di un'applicazione criptata, in qualche maniera cifrata, impossibile quasi da monitorare. Bene, insomma questo fenomeno in realtà sembra essere molto molto diffuso, per cui tra quanto trapela, insomma dalle informazioni che troviamo online nei vari giornali e nei vari esperti dicono che il sequestro appunto della singola procura di Bari riguarderebbe tra i 19 e i 17 gruppi e diciamo molto anche qui importante, tenete conto questi gruppi ognuno di loro ha migliaia, se no decine di migliaia di utenti. Un fenomeno gigantesco, particolarmente importante, che anche in questo periodo di coronavirus, pirateria a parte, comunque incide nei fatturati anche dei creatori di contenuti, gli stessi giornali. Pensate che la Federazione Italiana Editori Giornali, la FIEG, pensa di aver subito, di subire un danno da centinaia di migliaia di euro all'interno del settore. Le stime addirittura parlo di 670.000 euro al giorno. Insomma la pirateria al tempo del coronavirus continua e galoppa, grazie anche a Telegram. Chiaramente immagino che gli amici che si sono all'ascolto non sono assolutamente all'interno di questi gruppi, ma ricordiamoci per tutti gli altri che far parte di uno di questi gruppi, scaricare e utilizzare questo materiale, non soltanto è depronevole dal punto di vista etico, ma è soprattutto un reato. Per cui attenzione ad entrare in questi gruppi, a frequentare, a dire non succederà mai niente a me, non succederà mai niente, perché è proprio in quel momento in cui, come in questo caso, si svegliano gli editori, si svegliano i grossi gruppi e allora a questo punto i canali, i Telegram, l'Internet torna ad essere una cosa molto, molto reale e quindi anche i danni, anche i problemi che possiamo ricevere sono molto reali. Questo era il caffettino di oggi, come ogni giorno dalle 7.30 siamo qui per parlare, appunto di notizie della giornata. Vi ricordo il canale Telegram, Mario Moroni Canale, in questo caso non vi preoccupate, potete stare tranquilli, oppure anche sul sito mariomoroni.it. Noi, come sempre, ci risentiamo domani mattina. Fate i bravi, mangiate le verdure, buona giornata.